Bentornati, oggi continuiamo la trattazione su Dante, eravamo arrivati al verso 57 del secondo canto e ne approfitto anche per ricordarvi che oggi 22 settembre 2021 inizia il Festival del Medioevo a Gubbio e per chi come me non può andare di persona può comunque digitare il Festival del Medioevo su YouTube e seguire i vari interventi dei relatori. So che in settimana interverrà anche il professor Barbero, su internet trovate il programma insomma completo, basta cercare. Quest'anno ricorre anche l'anniversario di morte del grande poeta, sono 700 anni, 1321-2021 e quindi siamo veramente in linea e in tema, Medioevo e Dante. Virgilio deve rassicurare Dante, Dante colto dal dubbio ma non sa se sia in grado di affrontare un viaggio simile, non Paolo, non Enea sono, io non ho ricevuto un incarico importante, non mi sento degno come i grandi del passato. San Paolo doveva poi avere quella sapienza, quella carica spirituale per poter diffondere la fede cristiana in tutto il mondo. Dall'altro lato Enea invece aveva una missione fondamentale, da lui sarebbero derivati i romani, la città eterna, Roma, colei che avrebbe governato in tutto il mondo, quindi da lui sarebbe derivato il potere temporale e soprattutto a Roma ci sarebbe stata poi la sede del Vaticano, della Santa Sede, quindi veramente le fondamenta stesse del cristianesimo, della chiesa cattolica. Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Dante invece assume quell'atteggiamento umile che è tipico dell'eroe, l'eroe non è mai presuntuoso, sa di non essere pronto, di non essere adatto e in realtà possiede le qualità necessarie e le qualità giuste ed è per questo che è stato scelto e sarà proprio Virgilio a raccontare di come abbia fatto a raggiungere Dante e a salvarlo dalle tre bestie feroci, quindi dei grandi peccati capitali, superbia, avarizia e lussuria. E attenzione perché la prospettiva sarà diversa, noi sappiamo quello che è successo da una prospettiva celeste, divina, perché le parole di Virgilio raccontano di un concilium deorum, cioè di una riunione non tanto degli dèi quanto piuttosto di della Beata Vergine, di Santa Lucia e di Beatrice. Alle tre fiere verranno contrapposte le tre grandi donne che si sono occupate di Dante e che hanno a che fare con lui e subito il suo atteggiamento rivela la sua vicinanza con Maria, la donna più umile. Ecce Ancilla Domini, ecco la serva del Signore, colei che si sottomise totalmente alla volontà di Dio. Dante farà lo stesso, però è colto dal dubbio, non pensa di essere pronto. Notiamo continuamente questo atteggiamento di Dante, un po' di umiltà, a volte una falsa modestia perché invoca anche il proprio ingenium, la propria abilità poetica, la propria memoria, quindi è anche consapevole delle sue doti poetiche. Quindi c'è sempre questo atteggiamento ambivalente da parte di Dante, però è pronto. lucevano gli occhi suoi più che la stella. Beatrice scende nel limbo e deve andare a parlare con Virgilio, c'è un'urgenza. Dante si sta per smarrire nella selva oscura. I suoi occhi lucevano più delle stelle e cominciò, mi a dir, suave e piana, con angelica voce in sua favella. Notate quell'angelica voce perché poi lo ritroveremo anche in Petrarca. Sono tutte immagini tipiche dello stil novo, la donna Angelo, quindi un tema, un topos davvero ricorrente. Qui a parlare appunto Beatrice, o anima cortese mantuana, o anima nobile mantovana, di cui la fama ancora nel mondo dura, la cui fama ancora dura nel mondo. Quindi questa è una captatio benevolenzia. Beatrice cerca in tutti i modi di ingraziarsi la fiducia e la benevolenza di Virgilio. E durerà quanto il mondo lontana e la tua fama durerà in eterno, o almeno finché durerà anche il mondo. Quindi lui non sarà mai dimenticato. Ecco la funzione eternatrice della poesia. L'uomo scrive perché sa di essere mortale. E ora poniamo grande attenzione alle parole usate da Beatrice. L'amico mio e non dell'avventura, quindi il mio amico non per la sorte, quindi non un amico casuale, ma proprio colui che mi ha amata di tutto cuore, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che voltè per paura. È così avvolto dal terrore, dalla paura, che si è voltato indietro. Quella diserta piaggia ovviamente è la stessa piaggia diserta del primo canto. Quindi qui siamo alle pendici di quel colle che lui ha visto uscendo dalla selva oscura, ma le tre bestie feroci lo stanno per ricacciare dentro. Quindi sta veramente per ripiombare in basso loco. Sta per essere cioè travolto nuovamente dalla fiumana del peccato. E non uso questa espressione a caso perché poi ritornerà e temo che non sia già si smarrito. Di nuovo la costruzione alla latina significa temo che ormai sia già perduto, si sia già smarrito e che io mi sia tardi al soccorso levata. Quindi vedete, teme addirittura di aver fatto tardi, di essersi mossa in ritardo, quando ormai tutto è perduto per quel che ho di lui nel cielo udito. Io ho sentito parlare di lui nel cielo. Ecco la prospettiva celeste. Per quello vi parlavo del concilium deorum. Avviene tutto nelle alte sfere celestiali del paradiso. Davvero un'assemblea cristiana e non più pagana, quindi comunque legata e copiata dal mondo greco-romano. Ormovi, quindi sentite questo senso di urgenza. E con la tua parola ornata e con ciò che ha mestieri al suo campare, l'aiutasi chi ne sia consolata. Sfodera tutta la tua abilità retorica, tutto ciò che serve per poterlo aiutare. E affinché io sia consolata, quindi affinché io possa poi esserne rincuorata. Chi è quest'anima? Io sono Beatrice che ti faccio andare. Vengo del loco per tornare di Sio. Vengo dal luogo dove desidero tornare, cioè dal paradiso. Notate la perifrasi. Il paradiso non viene mai nominato nell'inferno. E nemmeno la Beata Vergine o Cristo o Dio. Sono tutti nomi che non possono essere usati in questo luogo. Perché è un luogo che ha completamente rifiutato Dio. È l'antitesi rispetto a Dio. Amor mi mosse che mi fa parlare. E questo verso, il 72, è il verso chiave di tutto il canto. Mi mosse l'amore che mi fa parlare. L'amore che ora mi spinge a parlare è anche l'amore che mi ha mosso per venire qui da te. Nell'imbo ha abbandonato il luogo dove tutte le anime vorrebbero essere, a cui tutti aspirano un giorno di poter arrivare per contemplare Dio. Ma lei, a causa dell'amore di quel agape greco, agape in latino, quindi l'amore vero, quell'amore disinteressato, puro, onesto, ha deciso in maniera molto ratta, veloce, di abbandonare la sede celeste per recarsi da Virgilio e quindi indurlo a salvare Dante. L'amor fino è l'amore puro, genuino, quello che non pretende nulla in cambio. Infatti già nel 36esimo capitolo della Vita Nova abbiamo il tema della Loda, quindi non è una novità assolutamente. Prenderemo in esame quando finiremo la Divina Commedia, magari l'anno prossimo, sicuramente affronteremo anche la Vita Nova, un'opera spesso dimenticata, abbandonata, snobbata, che in realtà è molto importante perché anticipa tantissimo della Divina Commedia. Questa forma di amore, che è quell'amor che muove il sole e le altre stelle, è in realtà l'amore che proviene direttamente da Dio. Lo troviamo nella Bibbia, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, dal versetto 4. La carità, cioè questo agape, questo amore, questa carità, carità cristiana, naturalmente, è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, la carità non avrà mai fine. Quindi l'amore, davvero, non avrà mai fine. Ed è quell'amore, quel agape, un amore di dilezione, che vuole il bene altrui, e la sua sorgente in Dio, il quale è amato per primo, quindi quell'amore poi si riflette in suo figlio, Gesù Cristo, e da lui poi si irradia dal paradiso in tutte le sue creature. Quindi anche Beatrice, che si trova in paradiso, è spinta da agape. Questo amore puro, onesto, sincero, ma soprattutto quell'amore che noi ricerchiamo negli altri tutti i giorni, ma che non troveremo mai, l'amore disinteressato, quello che ama senza pretendere nulla in cambio. Che bello, se ci fosse davvero un amore di questo tipo non avremo più bisogno di altro, un amore che noi ci sogniamo, che noi desideriamo, ma che al momento non riusciamo a provare e soprattutto a trovare. Quindi sentitelo tutto questo verso, amor mi mosse che mi fa parlare, un amore puro, totale, disinteressato, è davvero carità cristiana, oltre ad essere quell'amore anche tanto cantato dal dolce stilnovo. Quando sarò dinanzi al Signor mio, quindi quando tornerò davanti a Dio, la presenza di Dio, di nuovo una perifrasi per non nominare Dio, di te mi loderò soventi a lui, di te parlerò a Dio e quindi tesserò anche le tue lodi, t'accetti allora e poi cominciai io. Quindi la captatio benevolenza è finita e adesso parla Virgilio. Quindi qui sta semplicemente raccontando a Dante quello che è già successo. O donna di virtù sola per cui l'umana spezie e cede ogni contento di quel celca minor li cerchi sui, tanto ma grada il tuo comandamento che l'ubidir se già fosse metardi. E qui l'elogio di Beatrice, una donna che è piena di tutte le virtù, che ha in sé tutte le virtù, tutte le qualità positive ed è grazie a queste virtù che l'umanità può elevarsi al di sopra di tutte le altre. Quindi è una creatura privilegiata. Virgilio è pronto ad ubbidire, dice anche se tu non avessi bisogno di chiedermi nulla, comunque il mio agire sarebbe già un ritardo perché comunque non si può non eseguire i suoi ordini. L'ha chiesto in un modo così bello, così semplice, gentile, che è impossibile sottrarsi. Quindi quando lui inizia ad ubbidire gli sembra già di essere in ritardo. Più non te uo, più non ti è duopo, quindi non c'è più bisogno che aprirmi il tuo talento. Non c'è neanche più bisogno che tu mi spieghi oltre quello che devo fare, perché ha capito perfettamente insomma quello che gli viene richiesto. Prima di partire, quindi notiamo, c'è questo senso di urgenza, ma Virgilio desidera comunque sapere. C'è la curiosità umana che spinge Virgilio ad esitare, quindi non parte subito, ma vuole sapere appunto la ragione per cui lei ha abbandonato il paradiso ed è scesa nel limbo a parlare proprio con lui. Che cosa risponde Beatrice? Visto che tu vuoi sapere cotanto adentro, dirotti brevemente. Quindi mi rispose, si devono temere soltanto quelle cose che hanno potenza di fare male agli altri. Non devo temere quello che non può nuocermi. Beatrice non può essere toccata dall'inferno, perché in questo luogo nessuno ha potere su di lei. Quindi lei è un'anima beata, nessuno può toccarla. Con questa immagine bellissima lo dice, io sono fatta da Dio. Sentite la potenza di questa frase, io sono fatta da Dio. Siamo fatti, come dice la Genesi, a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo posto al centro dell'universo, il principe di tutta la creazione. Sua mercè tale, e sono talmente in grazia di Dio, quindi sono talmente tutta sua sottomessa a lui, sono una sua creatura, che la vostra miseria non mi tange. E qui, per aumentare la sua solennità, Dante sfodera addirittura il latinismo. Non mi tange, non mi tocca la vostra miseria. La miseria non è soltanto la vostra sfortuna, la vostra condizione, ma anche le vostre sofferenze, le pene che vi sono inflitte. Qui chiaramente non si rivolge solo al limbo, ma sta parlando in generale di tutto l'inferno. Donna e gentil nel cielo che si compiange di questo impedimento, ovvio ti mando, sì che duro giudicio la sua frange. C'è una donna gentile nel cielo, di nuovo anche qui la Madonna, la Vergine Maria, non può essere nominata. La Vergine si compiange, quindi si rattrista, di questo impedimento, cioè del fatto che Dante si è impedito. Quindi lei è preoccupata e quindi la Vergine ha interceduto. Dio ha voluto quel viaggio, quindi praticamente Virgilio lo sta rassicurando. Il suo viaggio è voluto ed è desiderato da Dio, quindi può tranquillamente essere paragonato ad Enea e a San Paolo, perché non dobbiamo dimenticare poi che tutto il canto è collegato. Quindi in realtà Dante ha pieno diritto e a pieno titolo, può davvero compiere quella catabasi, quella discesa agli inferi, perché probabilmente lo merita più di tutti gli altri, perché il suo compito è quello di rimovere vivente, sinac vita ad statum miserie e perducere ad statum felicitatis. Quindi non c'è un motivo più importante di questo, salvare l'intera umanità. Questa, quindi la Beata Vergine, chiese a Lucia in suo dimando e disse, quindi chiede di Lucia, e poi a Lucia che cosa dice? Or ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Quindi la Vergine si raccomanda a Santa Lucia e subito Santa Lucia corre da Beatrice per avvisarla e per inviarla da Virgilio e Beatrice va da Virgilio nel limbo, il quale va a salvare Dante. Quindi alle tre fiere si contrappongono le tre donne, perché proprio loro? Molto semplice, la Beata Vergine, perché è colei che intercede presso Dio per ciascuno di noi. Lucia non viene citata a caso, perché Dante ne parla nel convivio, dice di aver avuto una malattia molto grave agli occhi e di essersi quindi rivolto alla Santa. Siccome poi è stato guarito, Dante dichiara di essere ormai un suo devoto, leale alla Santa, perché era la protettrice della vista, ovviamente, quindi non cita mai nessuno a caso Dante, è straordinario da questo punto di vista. Venne al loco dove io era, che mi sedea con l'antica Rachele. Beatrice siede nella schiera dei beati insieme a Rachele, moglie di Giacobbe, colei che rappresenta la vita contemplativa. Perché cosa dice Lucia? Beatrice, l'oda di Dio vera, vera l'ode di Dio, perché non soccori quei che t'amò tanto, che uscì per te della volgare schiera? Sontiamo molto bene questo distico, questa coppia di versi, perché non soccorri colui che ti amò così tanto, che uscì, grazie a te, dalla schiera volgare, cioè colui che è riuscito ad emergere dalla schiera del popolo, di tutte le altre persone, di quell'amore volgare, l'amore cioè che richiede sempre qualcosa in cambio, che pretende, che si vanta, che si gonfia, il contrario della gap greca che abbiamo appena sentito nella prima lettera ai Corinzi. Queste anime sono mosse da un amore straordinario, lo stesso amore a cui riesce ad arrivare anche Dante, proprio grazie a Beatrice. Tutto il suo percorso viene ben esplicitato e spiegato nella vita nuova, ce lo dice lì perché passerà dal desiderio di volere qualcosa in cambio, prima il saluto, poi vorrebbe stare anche insieme con Beatrice, ma questo ovviamente non è possibile, quando poi toglie anche il saluto, il poeta naturalmente entra in crisi, ma poi grazie a un suo processo interiore di maturazione spirituale, arriverà finalmente a capire che la vera felicità sta proprio nel lodare la donna, ma senza pretendere nulla in cambio. Tema della loda, l'elogio della donna, la celebrazione della donna, ma una celebrazione fine a se stessa, senza alcuna pretesa. Quindi Dante supera tutti gli altri stilnovisti, perché non è vero che tutti gli stilnovisti sono uguali, Guido Cavalcanti si ferma ancora ad un amore terreno, carnale, perché si limita semplicemente a spiegare, a descrivere tutti gli effetti negativi e nefasti dell'amore, quindi in realtà lui non va oltre. Dante invece riesce a salire quel monte ventoso, come dirà Petrarca, riesce veramente a staccarsi dai beni materiali, capisce che quella è l'unica via per la salvezza, e potrà quindi finalmente essere degno di arrivare al paradiso. Davvero tutta la commedia è una lunga e continua e infinita peregrinazione, è l'homo viator. Lui ha davvero trovato la via giusta per arrivare alla salvezza eterna e ce la indica, quindi è un processo interiore spirituale, ma anche politico, quindi veramente tenta in tutti i modi di rinnovare se stesso, gli altri è non attuale Dante, di più, forse addirittura parlerà ancora di più alle generazioni future, perché più andiamo avanti, più le cose peggiorano anziché migliorare, non lo vedete, cambiamenti climatici, rapporti che non esistono più, stiamo diventando come dei robot, non ci guardiamo più neanche in faccia, e invece qui ce lo dice, amor mimosse che mi fa parlare, l'amore non perché voglio qualcosa in cambio, la donna non è un mio possesso, non è un oggetto che quando vuole lasciarmi allora la distruggo, se non posso averla non deve averla nessun altro, falso, chi vi racconta questo è un pazzo, bisogna insegnare fin da bambini mamme, ai bambini maschi, a voler bene alle donne, alle bambine, insegnatelo ai figli, i figli devono rispettare le madri, perché è la prima figura femminile che vedono, altrimenti non ne veniamo più fuori, non odi tu la pieta del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana, ove il mar non ha vanto, ti non odi Beatrice la pieta, quella pieta sempre del primo canto, quindi quell'angoscia, quella disperazione del suo pianto, tanto è disperato, sta per essere ricacciato nella selva, sta per essere tentato di nuovo da Satana, da queste bestie feroci, non vedi la morte che lui sta combattendo, ovviamente la morte spirituale, sulla fiumana, ove il mar non ha vanto, quindi su quel fiume del peccato, attraverso un'immagine particolare, Dante sta paragonando questa fiumana del peccato, questi gravi peccati, ad un fiume, come quando il fiume va a sfociare nel mare, quindi immaginatevi, verso la foce, quando il mare proprio si infrange contro gli scogli, e poi si getta in mare aperto, lì è dove si formano maggiormente i gorghi, dove l'acqua è più impetuosa, quindi qui Dante si ritrova nuovamente sull'orlo del baratro, e per non cadere urge l'intervento di Beatrice. Al mondo non fur mai persone ratte, non ci sono mai state persone così veloci a fare il loro pro, il loro interesse, oppure a fuggire il loro danno, quindi a fare i propri interessi, a fuggire ovviamente i pericoli, ciò che poteva essere per loro dannoso, come io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno, quindi nessuno è stato più veloce di me, sta dicendo Beatrice, io sono stata più veloce di tutti gli esseri umani, capiamo il vero valore dell'agape, l'amore totale, puro, che non chiede nulla, che non si vanta, e che non cerca neanche l'attenzione mediatica, ma che fa tutto sotto banco, di nascosto, non far sapere alla tua destra quello che fa alla sinistra, non come quelli che vedete, che poi fanno beneficenza, fanno altre cose, non so, fondano associazioni, qualsiasi cosa, e si mettono in mostra, compaiono sui giornali, no, agape, amore vero, silenzioso, senza dire niente a nessuno, qui finisce il racconto di Virgilio, poscia che mi ebbe ragionato questo, dopo che mi ebbe raccontato tutto ciò, gli occhi lucenti, lagrimando volse, notate la litterazione di questo suono, della L, gli occhi lucenti, lagrimando volse, addirittura piange, piange però perché sicuramente è preoccupata, è angosciata, proprio perché ha paura che Dante sia perduto, quindi notiamo anche l'amore che Dio ha per ognuna delle sue creature, non vuole, vuole che nessuno venga perduto, vuole che tutti siano salvati, perché mi fece del venire più presto, quindi anche le lacrime servono per smuoverlo ancora di più, anche se non ce n'era ovviamente bisogno, e venni da te così come la voleva, dinanzi a quella fiera ti ho levato, quindi è arrivato, quando Dante di fronte ai piedi del colle, stava per tornare indietro, quando ha incontrato la lupa, vi ricordate la terza fiera, la lupa, quindi io ti ho trovato lì, quando all'improvviso Dante disse misereri di me, quindi in realtà qui stiamo assistendo a tutto un enorme flashback, perché stiamo tornando indietro, e Virgilio ci ha raccontato quello che è successo prima, quindi il concilium deorum, ovviamente in chiave cristiana, ed ora quello che è successo, quindi c'è un raccordo, vedete, tra quello che è già successo, e quello che sta succedendo adesso, notate le panalessi, perché? Perché restai? Perché ristai? Cioè perché ti fermi lì? Perché non vai avanti? Perché hai paura? Perché esiti? Mai dubitare il dubbio, dice il proverbio, è il nemico della fede. Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché accogli dentro il tuo cuore tutta questa viltà? E guardate che la viltà è un termine importante, perché anticipa i pusillanimi, cioè perché la viltà è associata ai pusillanimi, quindi anticipa gli ignavi del canto successivo. Posha che t'hai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette, quindi perché continui ad esitare quando in realtà hai ben tre donne benedette che si curano di te nella corte del cielo, ennesima parafrasi del paradiso. E il mio parlar tanto ben ti promette e io ti ho riassicurato a sufficienza. Quindi qual è il motivo di questo dubbio, di questa esitazione? Non ci deve più essere, devi partire e lasciarti andare. Quindi notate l'amore vero. Virgilio stesso è spinto da Agape, non ha un interesse, in realtà non lo fa semplicemente perché Beatrice poi parlerà bene di lui a Dio, anche perché non può più uscire dal limbo, naturalmente lui è condannato perché è vissuto prima, quindi non ha alcuna possibilità. Eppure è mosso perché è pronto ad ubbidire, vedete, il Virgilio che soccorre il suo allievo, colui che veramente era tanto amato, tanto rispettato e ammirato anche professionalmente, poeticamente da Dante. Beatrice, la teologia, quindi veramente l'allegoria della fede, di quella fiducia cieca che non esita mai, che non ha mai alcun dubbio, che crede ciecamente in Dio e dall'altro lato Virgilio, la ragione, quindi la fede che va a chiamare la ragione e la ragione che va subito incontro a Dante. Dante da solo, privato di ragione e di fede, non può vincere, non può salire quel dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia, non lo può fare. L'uomo deve essere guidato dalla ragione, quindi dalla nostra razionalità, dobbiamo sottomettere gli impulsi, ma dove non arriva la ragione deve arrivare la fede, c'è quel salto, quel trasumanar, ma non posso andarci se mi limito alla ragione, come fanno gli agnostici, che non negano, ma ne affermano l'esistenza di Dio. Quindi se non c'è quel salto, quella fiducia, ebbene a un certo punto mi devo fermare, sarebbe comunque un fallimento, perché non potrei poi salire al paradiso. Davvero la fede, come dice la Bibbia, è proprio la speranza che ciò in cui io credo, prima o poi, si compierà. purtroppo non è un dono dato a tutti, lo sappiamo, c'è chi crede e chi non crede, ma qui Dante ci sta dicendo che da soli non possiamo andare oltre un certo limite, perché siamo esseri limitati. E dopo aver ascoltato questo lungo discorso, insomma, che è servito a rincuorare l'animo del poeta, del grande Dante, arriva una similitudine bellissima, e dice, io divenni così forte, carico ovviamente di ardire, quindi carico di fiducia, come i fioretti, quindi come quei fiorellini, quelle piante, dal notturno gelo chinati e chiusi, quando sono chiusi di notte, poiché il sole li illumina, li imbianca, e loro subito si drizzano aperti in loro stelo. Un'immagine bellissima, quindi Dante come quel fiore che sboccia quando viene toccato dalla luce, dal calore, quindi dalla vita, dalla gioia, dalla positività, così subito Dante, uscito fuori dal buio, dalle tenebre, del dubbio, può riaffiorare alla luce, alla verità, e soprattutto ha recuperato la fiducia in se stesso e nella sua guida. O pietosa, quindi dotata di pietà e di carità cristiana, colei che mi soccorse, Beatrice, quindi la ringrazia, e te, cortese, che obbedisti tosto subito alle vere parole che ti porse, e te che sei stato cortese, di nuovo la cortesia che deriva dalla corte, anche Virgilio ha il cuore nobile, al cor gentil, rempai da sempre amore, nessuno può provare amore vero se non ha il cuore nobile, quindi qui siamo veramente in pieno stilnovismo. mi hai talmente predisposto l'anima, il cuore, insomma, con le tue parole che io sono tornato nel primo proposto, sono tornato cioè nel primo proposito, ho recuperato la fiducia in me stesso. Ora va che un sol volere è da ambe due, adesso vogliamo tutti e due la stessa cosa, tu duca, tu signore e tu maestro. Tricolon, notate questo tricolon, tu duca, tu mia guida, tu signore, colui che può comandarmi adesso qualsiasi cosa, dominus, e tu maestro, la mia guida e il mio autore. Così gli dissi e poi che mosso fue entrai per lo cammino alto e silvestro e dopo di lui entrai per il cammino, qua dice alto, dal latino altus quindi profondo, e silvestro e all'interno della selva oscura. Quindi notiamo che questa catabasi, questa discesa agli inferi è sicuramente difficile, ce lo dice alto e silvestro, un luogo profondo, misterioso, pieno di pericoli, di peccati, saranno scene molto difficili, anche cruente, molto dure anche da accettare e Dante da un lato sarà mosso dalla pietà umana perché naturalmente non potrà essere insensibile di fronte a tutti i mali, a tutte le punizioni che la giustizia divina però ha giustamente assegnato e dall'altra parte però sarà anche un sentimento di pietà nei suoi stessi confronti perché anche Dante riflettendo sa di essere stato toccato da più di un peccato quindi anche lui non è esente da queste colpe naturalmente e poi arriveremo insomma a risalire questa natural burella per rivedere le stelle e trattare poi il purgatorio ma questa è un'altra storia e nella prossima lezione invece affronteremo il terzo canto dove troveremo gli ignavi che non hanno mai preso una decisione e ce ne sono tanti sapete al mondo che lasciano che siano gli altri a decidere vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione a presto a presto